buongiorno a tutti abbiamo oggi il piacere di avere tra noi il leone di Iesi l'eroe della superbike Giancarlo Falappa buongiorno Gian Vittorio sono qua dalla pomo caffè Gian Vittorio Montelli grande Gian Vittorio grande moto Ducati che ha fatto storia ora la nuova sclamba diciamo questa è stata la nascitura ti piace la motoretta Giancarlo? grazie grazie è un piacere per me averti qua nella mia sede perché tu sei il leone della superbike e le tue imprese hanno fatto epoca e sono felice di avere una Ducati perché tu sei stato a parte anche la la gloriosa bimota sei stato l'artefice dei successi della Ducati e la 916 è stata la moto che hai portato tu diciamo io l'ho allevata l'ho cresciuta fin dalla raccia perché l'ho allevata io l'ho cresciuta io poi purtroppo ho avuto un incidente per me ma la moto era già vincente hai vinto il caldo Focati prima trovi il corso e poi trovi i benessi poi quindi il moto che ci ho voluto con 916 e 918 un moto che ha fatto storia a parte ma una grandissima storia della Ducati bene Giancarlo è venuto a trovarci dopo un riuscitissimo intervento all'anca sinistra no anche a destra l'anca destra l'anca destra nuova l'anca destra nuova il dottor Lasagna mi ha ottimamente rinnovato alla clinica di Umi e poi all'ospedale Maggioelli ha fatto la riabilitazione ora cammino soltanto da un mese complimenti complimenti vedo che già cammini con la stampella è veramente incredibile Giancarlo una vera e propria ripresa da Leoni il dottor Lasagna della clinica Ome clinica Sorocco di Ome eh d'altronde uno che si chiama Leoni di Iesi non è che poteva stare tanto senza camminare giusto? eh 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 allora è stato un piacere averti qui Giancarlo si fermerà qualche giorno qui a Ciliano Moderno vi farò qualche momo caffè è venuto a bere qualche momo caffè e siamo contenti che gli è piaciuta la nonna del 1972 e per chi ha guidato le Ducati è un gran riconoscimento ha diciamo ha cresciuto la Ducati poi questa moto è stata l'espressione dei Ducati di tanti anni fa la Ducati di ora deve molto a lei ciò che è ora benissimo Giancarlo a domani grazie di tutto ciao grazie buona permanenza qui grazie grazie